Sarà la regina del rock, Gianna Nanini, a salire sul palco di Piazza di Pianedda a Castelsardo la sera del 31 dicembre nel tradizionale evento del Capodanno, giunta la 18esima edizione. Un evento attesissimo che catalizzerà l'attenzione dei tanti fan della cantautrice e dei media nazionali. La rocker toscana arriverà probabilmente nell'antico borgo dei Doria, qualche giorno prima del concerto, per mettere a punto il suo live fenomenale, che dopo aver fatto tapa all'estero e nelle principali piazze italiane, arriva in Sardegna con alcune sorprese pensate appositamente per questa occasione speciale. Per riuscire ad ospitare l'ambito concerto, Castelsardo ha dovuto superare nei giorni scorsi la concorrenza di altre piazze importanti. A concretizzare l'evento è stato anche il desiderio di cantare in Sardegna della Nanini ed il prestigio che il Capodanno in piazza a Castelsardo ha acquisito negli anni, diventando uno degli eventi nazionali di richiamo per i festeggiamenti della notte di San Silvestro. Gianna Nanini inizierà il suo live dopo lo scoccare della mezzanotte, annunciata da spettacolari fuochi d'artificio. La rocker ha consolidato con il suo ultimo album Amore Gigante e il Fenomenale Tour una nuova stagione di successi. Il live che fa tappa a Castelsardo porta sul palco una formazione d'eccezione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Müller alla batteria, Isabella Casucci, Anastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori. In scaletta brani tratti dal nuovo album e grandi successi da cantare a squarciagola insieme al pubblico.